Ghostbusters Legacy! L'ho rifatto perché prima avevo detto Ghostbusters Afterlife, grazie ai titolisti. Andiamo a vedere i dettagli e segreti del nuovo trailer della pellicola di Jason Reitman, il figlio di Ivan Reitman, regista dei primi due Ghostbusters. E ce ne sono di cose da dire. Spore, muffe e funghi di Lega Nerd, un saluto da Giacomo. Come ve la passate? Siete pronti a ritornare a caccia di fantasmi? Allora andiamo a vedere quello che ci nasconde, il trailer di Ghostbusters Legacy o Ghostbusters Afterlife, comunque lo vogliate chiamare, un film che promette di riportare un po' tutte le generazioni sulle orme degli acchiappafantasmi e delle loro imprese di oltre 30 anni fa. Carrie Coon è Kelly, la figlia di Egon Spangler. Possiamo ben pensare che per qualche motivo non abbia visto il padre per moolto tempo e dopo la sua dipartita la vediamo arrivare nella ridente cittadina di Somerville, Oklahoma, dove il genitore si era ritirato per studiare chissà quali fenomeni che sicuramente saranno il centro del film. Ma con lei ci sono i due figli che saranno poi i protagonisti della pellicola. Loro sono Trevor, ovvero Finn Wolfhard, la star di Stranger Things, che anche qui si conferma abbastanza antipatico, e Febe, questa ragazzina McKenna Grace che è la copia sputata del nonno, ma veramente è impressionante, come questa attrice bambina con il look che le hanno studiato sembri davvero la nipote, ma che dico, il clone femminile diretto di Egon Spangler, ovvero l'amatissimo e compianto Harold Ramis. Ci sono decisamente alcuni richiami alla pellicola del 1984 e anche al sequel del 1989 che è ancora un po' controverso tra gli spettatori e i fan di Ghostbuster, ma comunque noi li amiamo entrambi. Poi se vuoi dici la tua sotto nei commenti. Di sicuro è che vedremo il genio di Egon ancora in azione anche dopo la sua dipartita, perché Febe la vediamo risolvere una specie di puzzle di Tetris che c'è sul pavimento e sicuramente sarà il primo passo verso i segreti del nonno. E subito dopo vediamo il ritrovamento della mitica Trappola, un oggettino che da oltre 35 anni era a prendere la polvere e che vedremo in azione anche dopo. Ma la parte più gustosa arriva a cavallo tra il primo e questo secondo trailer più corposo, perché abbiamo visto la miniera, la cava, chiamiamola come vogliamo, di Shandor, Shandor Mining. E anche se non siete i più grandi adoratori di Ghostbuster, sapete che Ivo Shandor è il leader pazzo, folle del culto di Gozer, nonché architetto del 55 Central Park West, il palazzo dei 19 piani, che era teatro della tragedia del primo film, nonché portale di evocazione per Gozer, che tentò di conquistare il mondo, ma fu eroicamente fermato da quattro acchiappafantasmi. Vediamo poi una vecchia foto di famiglia dei nostri Ghostbusters, ovvero Peter, Ray, Egon e Winston, sullo sfondo della loro leggendaria sede, la mitica caserma dei pompieri che serviva da base operativa dei Ghostbusters, e i ragazzini che andando a indagare in uno dei punti di trivellazione, immaginiamo, di questa miniera, delle miniere Shandor, si vedono arrivare addosso l'energia spiritica che poi si diffonde verso l'alto. Da notare che nel primo trailer era verde, in questo diventa rossa, ma poi l'energia spiritica che con flussi va a incanalarsi per tutta la città è rosa, o comunque violacea, un vero e proprio richiamo a quella che è la pellicola originale di Ghostbusters, lo stesso Jason Reitman, regista di famiglia, perché sappiamo che è il figlio di Ivan Reitman, regista di entrambi i Ghostbusters degli anni Ottanta, ha detto che ha cercato proprio, andando a prendere i fotogrammi originali del film, andando a scandalizzarli per studiare il colore, perfettamente e ricrearlo quindi per questo film. Ci sono poi le scene dove vediamo Paul Rudd, ovvero il professor Gruberson all'insegnante di scienze dei ragazzini che guarda con loro YouTube, e poi anche Febe che guarda YouTube, guarda le imprese degli acchiappafantasmi, perché ricordiamo che quello che è successo nei film dei Ghostbusters è successo veramente nel 1984 e 89 della pellicola che stiamo vedendo. Ora, è strano che i ragazzini non se ne ricordino di quelle imprese che se fossero successe nel mondo reale, e beh, anche a distanza di 40 anni lascerebbero abbastanza il segno, però è curioso che quando vediamo i Ghostbusters con il loro spot storico su YouTube ci sono anche dei video correlati molto buffi. C'è naturalmente quello cospirazionista che dice che Shandor probabilmente sta ancora governando il mondo in combutta con chissà quali poteri forti. C'è il classico video di inchiesta che si chiede che fine hanno fatto i Ghostbusters, e c'è anche il breakdown degli zaini protonici e delle attrezzature dei Ghostbusters. Quindi, ecco, è proprio vero, più vero del vero, i video correlati che arrivano su YouTube. E poi abbiamo anche dei flash, abbiamo il fumo denso che invade la stanza, di natura sicuramente spiritica, delle luci che si muovono da sole intorno a Kelly, abbiamo il Peaky Meter, il famoso rilevatore di energia spiritica, probabilmente impugnato da Ray, e poi capiremo perché. Insomma, avete capito che i richiami alla classicità sono molti, ma non è tutto perché in poche inquadrature vediamo anche i ragazzini che scendono nella miniera di Shandor e trovano niente meno che una statua, che chiaramente è una statua di Gozer, Gozer con i suoi Terror Dogs, i cagnoloni che abbiamo amato nel film originale, e dopo la statua di Gozer vediamo addirittura a un brevissimo flash, pochissimi frame, dove Gozer sembra proprio a emergere dalle profondità della terra di fronte ai ragazzini, e la forma sembra proprio la sua forma classica, quella del 1984. Che cosa succederà? Non lo sappiamo. C'è qualcosa che sarà significativo legato ai numeri che vediamo dietro Febe in un'inquadratura del trailer? Chi lo sa? Forse sono date, per adesso non siamo riusciti a decifrarle, ma potrebbero voler dire qualcosa. Ma soprattutto, come giustamente ha notato qualcuno, a un certo punto, quando la Ecto-1 fa il suo giro, molto emozionante, vediamo, no? Tutte le migliorie che Egon aveva probabilmente fatto alla Ecto-1, come gli sportelli che si aprono per poter usare lo zaino protonico anche in mobilità. Ecco, proprio quando la Ecto-1 fa una delle sue note sgommate, che vediamo anche ripetutamente nel trailer, non soltanto nei campi, e nei campi aperti dell'Oklahoma, beh, si vede un cartello della State Path. Ora, con lo stesso, con l'omino dei gnocchetti di Lichet, ora, ok, ma se è successo davvero, ed è canon, quello che è successo nel 1984, giustamente moltissime se lo stanno già chiedendo, com'è possibile che un'azienda del genere, che ha distrutto, anche se involontariamente e indirettamente, grazie rei, mezza New York, e la smerdata, cioè, com'è possibile che sia ancora in piedi, non abbia cambiato nome, non abbia cambiato mascotte? Non lo sapremo, secondo me non ce lo diranno neppure del film, rimarrà un easter egg così simpatico. Beh, e quindi abbiamo visto i Terror Dogs, in forma un po' fantasmatica, evanescente, e poi in forma carne e ossa, tant'è vero che con il loro aspetto goffo, e la loro corsa goffa, quando li vediamo inseguire, il Professor Gruberson, assomigliano esattamente ai Terror Dogs, del 1984, che andavano a sbattere la testa nei muri, che scivolavano e cadevano, erano troppo forti, veramente le creature tra le migliori create negli anni Ottanta. Ma poi abbiamo anche il successore di Slimer, è stato detto chiaramente che quello che viene catturato dai ragazzini sull'Ecto 1, che lo vediamo catturato dal flusso dello zaino protonico, sarà Muncher, non sappiamo se avrà un nome italiano, comunque Muncher, è nell'idea del Reitman Jr., il successore di Slimer, quindi immagino che sia un fantasma che verrà catturato, ma forse poi in qualche modo lo rivedremo nel corso del film, chi lo sa. Prima di passare agli ultimi dettagli, se ti piace questo video, pollice su oppure pollice giù, e spiegaci perché, un commento, iscriviti e attiva la campanella. E dici la tua su questo trailer, ti sembra che manchi l'aspetto commedia, commedia demenziale in questo trailer? È soltanto un trailer nostalgico e troppo alla Stranger Things? Dici la tua nei commenti, così ne parliamo. Ma adesso arriviamo alla conclusione e al piattoforte. L'ultima parte del trailer che vede suonare un certo telefono rosso e qualcuno prendere il telefono e rispondere con un siamo chiusi, ma sappiamo che sarà probabilmente l'entrata in scena nella storia di quel personaggio. Stiamo ovviamente parlando di Ray Stance e del suo negozio Ray's Occult Books, libri dell'occulto, che avevamo visto nel sequel di Ghostbusters in Ghostbusters 2 che qui tornerà e vediamo che pure Ray si è fatto un tatuaggio sul braccio e chi lo sa che cosa significherà, per adesso non lo sappiamo ancora, probabilmente sarà qualcosa di molto interessante. Quello che è certo è che Jason Reitman ha detto che vuole fare un film di chi oggi scopre il 1984, quindi sarà sicuramente rivolto ai ragazzini. Avrà probabilmente un tono a cavallo tra il teen e il nostalgico, ma probabilmente sarà interessante anche perché filologicamente è molto curato. Ray Hittman ha detto che ha voluto fare per quanto possibile degli effetti visivi, pratici, practical, come dicono gli americani. Ha voluto utilizzare degli animatronic, dei pupazzi, per esempio vediamo il fantasma, lo scheletro che si va a prendere il caffè nel diner in questo nuovo film che richiama moltissimo il tassista del film originale, ed è un pupazzo. Quindi comunque Reitman ha detto che vuole mantenere lo spirito, vuole mantenere anche il look and feel del un po' le cose arrugginite, un po' le cose fatte in casa come erano gli originali Ghostbusters, con materiali di fortuna, Egon comunque era un genio quindi costruiva cose tecnologiche ed elettroniche anche con materiali di fortuna. Questo è molto interessante e vedremo come andrà a finire. Dunque, noi ci vediamo alla prossima, non ti dimenticare di mettere una reazione e un commento e seguire il nostro canale. Da Giacomo è tutto, ciao e chi chiamerai?